Anche l'endoscopia digestiva l'intelligenza artificiale sta contribuendo a migliorare sostanzialmente la performance soprattutto nel campo della conoscopia. Infatti grazie alle nuove tecnologie, in particolare all'intelligenza artificiale, la nostra capacità di diagnosi soprattutto delle lesioni polipoide piccole o delle lesioni neoplastiche piccole dovrebbe migliorare significativamente proprio perché l'intelligenza artificiale ha una capacità nettamente superiore al nostro occhio, alla nostra mente di elaborare rapidamente le immagini che noi vediamo, di classificare e di identificare queste lesioni sia polipoidi che tumorali. Tutti voi sapete che la coloscopia è il metodo migliore per la prevenzione del cancro del colon, il cancro del colon è la seconda causa di morte per tumore maligno in Italia e nei paesi occidentali, c'è un grande sforzo da parte di tutte le istituzioni, da parte di tutti gli ospedali, da parte di tutti i ricercatori per cercare di ridurre l'incidenza del cancro del colon. È un esame che prevede l'introduzione di un tubicino flessibile all'interno del nostro organismo con l'obiettivo di trovare i polipi del colon. I polipi sono delle piccole alterazioni della mucosa ma sono anche dei precursori del nostro cancro. Purtroppo non tutti i polipi durante la conoscopia sono facili da vedere, da identificare o da classificare ed è per questo che Humanitas Research Hospital e Humanitas University stanno lavorando per sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale che assistano i medici, gli endoscopisti durante le procedure e li aiutino ad identificare i polipi quando sono piccoli o nella loro fase più precoce in modo da fare una vera prevenzione del cancro del colon.